Io lo vedo come un primo segnale che si è capito che bisogna cambiare rotta e che la stagione di austerità non porta alcun beneficio, non ha aggiustato i bilanci pubblici, ha prodotto depressione e crisi, per cui io sono molto convinto che quella sia la strada da perseguire. Abbiamo bisogno di puntare sulla crescita, sullo sviluppo e su più opportunità per le generazioni più giovani.